Chiara Ferragni, Coca-Cola dice stop alla collaborazione. Secondo un'indiscrezione però l'influencer avrebbe firmato un contratto con un importante brand. Il 2023 di Chiara Ferragni non è iniziato nel migliore dei modi. Il caso Balocco continua a creare dibattito, polemiche e soprattutto preoccupazione nei brand che da anni collaborano con l'imprenditrice influencer. Anche Coca-Cola avrebbe deciso di fare un passo indietro decidendo di interrompere, chissà forse solo momentaneamente, le relazioni con Ferragni. Secondo quanto riporta La Repubblica, Coca-Cola aveva scelto Chiara a dicembre, forse prima dell'arrivo della sanzione dell'antitrust, per girare uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio. Le tempistiche non erano casuali Coca-Cola voleva sfruttare la vicinanza all'inizio del Festival di Sanremo visto che l'influencer lo scorso anno Chiara si trovava proprio sul palco dell'Ariston. Dopo la sanzione però Coca-Cola si sarebbe tirata indietro e a breve dovrebbe uscire lo spot ma con un'altra, o un altro, protagonista. Le riprese saranno a Milano. Coca-Cola ha seguito, nella decisione, sa filo che lo scorso 21 dicembre ha disdetto la licenza per gli occhiali del brand Ferragni. Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti, ha dichiarato Coca-Cola in una nota stampa. Di tatt'altra visione pigna che invece continua a sostenere Chiara. Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali, ha spiegato l'ad Massimo Fagioli in una nota. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. La storia di 185 anni di pigna, la nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l'auspicio che l'attuale non facile contesto possa essere superato. Intanto però Chiara avrebbe però firmato un importante contratto con un marchio che fa parte di un colosso internazionale chissà tra quanto vedremo nelle sue storie questa fondamentale collaborazione. Perché intanto Chiara è tornata a pubblicare dopo settimane di silenzio social. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.